Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo FIFA contest per 30.000 crediti Un nuovo FIFA contest che estrarrò in questa settimana Quindi se volete sapere quando estrarrò perché lo estrarrò a sorpresa Dovete rimanere connessi per forza sul canale ragazzi E dovrete iscrivervi Per partecipare a questo FIFA contest dovete essere utenti di PS4 Perché passerò i crediti solamente ad utenti di PS4 Che giocano a FIFA 17 E come dicevo I requisiti quali sono? Mettere mi piace al video Lasciare un hashtag partecipo sotto al video E condividere il video Insomma condividere il video Per condividere il video è molto semplice Basta semplicemente Lasciare un mi piace Automaticamente si condivide nella vostra lista di video piaciuti Quindi non è che dovete fare chissà cosa ragazzi Penso che sia una cosa abbastanza semplice Andrò ad estrarre Come ho fatto la scorsa settimana Mi sembra Un vincitore tramite un app online Tramite comunque un sito online Per estrarre Non posso farlo in live Perché purtroppo ho qualche problema Non riesco a trasmettere in live Con il PC Quindi non so Fino a quando ci sarà questo problema Comunque ricordatevi Un partecipo Like a questo video E iscrivetevi al canale Per partecipare al contest ragazzi Tutto abbastanza semplice I crediti sono 30.000 Buona fortuna a tutti Ciao a tutti Al prossimo video Al prossimo video